bene ragazzi di nuovo ben ritrovati è il secondo video di questo 6 settembre andiamo a vedere un attimino oggi ci concentriamo chiaramente su quello che è successo nel nostro fantacalcio andiamo quindi a vedere realmente cosa abbiamo combinato con la nostra squadra eccoci qui alla nostra lega andiamo a dare una rapidamente un'occhiata la classifica eccoci qua siamo al sedicesimo posto con i nostri cinque punti che abbiamo preso proprio la scorsa settimana ma quello che conta andare a vedere orientativamente cosa potremmo aver combinato in questa giornata andiamo all'inizio perché noi siamo sempre lassù canale forza forza lazio ecco qua andiamo un attimino a vedere ragazzi cosa possiamo aver combinato allora cominciamo subito col dire che magnan ha subito due gol nonostante abbia subito due gol e parato no subito gol prende comunque cinque e mezzo che ha fatto una grande partita bene bene anche parisi sei e mezzo ligo giannis ripeto per quella che la mia valutazione un cinque e mezzo va visto positivamente nella valutazione di un giocatore al fantacalcio bene anche lazari cinque e mezzo barack sei malinowski sei ecco qui che felipe anderson con il suo assist si becca un sei e mezzo più più sette andiamo poi a vedere andiamo a vedere milinkovic cinque e mezzo ecco cinque c'è sta ragazzi è giusto bisogna dire quello che giusto è giusto ragazzi ne bisogna bisogna dirlo e andiamo a vedere un attimino adesso più avanti quindi abbiamo cancellieri senza voto quindi non ha giocato abbiamo poi il cinque e mezzo di se sai è il cinque di immobile che fa male perché non ci porta neanche bonus attenzione perché ancora una volta un ass tra l'altro c'è tutto all'estero quindi dobbiamo rifarla proprio sta squadra ancora una volta ragazzi come possiamo vedere manca un attaccante non gioca nessuna delle sue alternative ma la cosa ancora più pesante e drammatica è che anche a centrocampo non abbiamo assolutamente alternative qualcosina ci abbiamo in difesa con bonucci che prende il 6 così come giomber ma anche qui ragazzi fiordaliso non c'è più gli arosischi non ci sta più insomma questa ragazza è davvero una squadra disastrata vi dico la verità l'esperimento di di averlo fa l'esperimento di aver fatto la squadra tutti insieme non è che abbia proprio funzionato al meglio quindi in teoria la nostra formazione dovrebbe essere cambiata da un 343 a un 442 presumibilmente presumibilmente quindi non ci resta che andare a calcolare la giornata per vedere cosa cosa abbiamo effettivamente combinato aspettate un attimo perché sicuramente non aspettiamoci di andare appunti se andiamo appunto è un miracolo andiamo un attimo a vedere torniamo indietro allora 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 abbiamo preso 0 punti 60 vedete ragazzi 0 punti presi 64 e mezzo siamo andati male 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 sono curioso di vedere chi quali sono le squadre che hanno totalizzato più punti in questa giornata di fantacalcio risaliamo immediatamente su per la nostra lega dove chiaramente vedremo tutte le squadre che hanno preso punti eccoci qua abbiamo savo che prende 20 punti se non sbaglio il primo è la prima volta poi abbiamo ziese ne prende 15 così come lino banfield poi abbiamo a stronzo 8 insieme a s roma 5 ovetto di pasqua 4 mastino lavico red bull tre punti due punti per s roma 27 atletico gott e due punti anche per alaska trou questa è quindi le squadre che sono andate appunti ne scaturisce questa classifica con savo che va in testa 35 punti liverpolli 33 a 32 la scatola ziese 30 e via via tutti gli altri chiaramente noi dobbiamo un attimino vedere cosa abbiamo combinato e andiamo al diciottesimo posto andiamo al diciottesimo posto come potete vedere insomma dobbiamo assolutamente intervenire in questa formazione ragazzi perché davvero così non si può andare quindi ancora una giornata negativa zero punti presi ragazzi squadra da ricostruire in settimana presumibilmente faremo un intervento per sistemare sta squadra perché così non può davvero andare per ora ragazzi ci fermiamo qui mi raccomando domani lancieremo già per il campionato il contest nella nostra community del canale youtube in modo che tutti insieme schieriamo la nostra formazione migliore un abbraccio a tutti buon proseguimento di giornata